Andate, andate, andate! Ok raga, la situazione è molto strana, nel senso che... Allora, al momento sono le... ok, le 10 di sera. Mi ha scritto Marchettino dicendomi che è qui a Milano, che quindi se volevo potevo fare un giro. Io domani mi devo svegliare presto per andare al lavoro, però non potevo dire di no. E allora, niente, adesso vado giù a prendere l'Abarth, vado a fare benzina perché non c'ho manco benzina. Mi trovo con un altro paio di amici e poi andiamo a fare un po' di bordello con Marchettino. Speriamo che non ci arrestino, il suo scarico è troppo esoso. Andiamo! Bene, ragazzi, ci siamo appena trovati con Marchettino. Abbiamo qua davanti Golf Gt, S1 Mappatarevo, ovviamente Marchettino. Gt86 con scarico e aspirazione, che anche quella suona proprio una bella goduria. Ovviamente è la nostra Bartina. Oh mio Dio, ho sentito il sound della Gt86, ma adesso c'è anche un tunnel, quindi ci sarà un bel bordello. Oh mio Dio, quello era Marchettino. Oh mio Dio, quello era Marchettino. Oh mio Dio, ho le mie orecchie. Marco, mi hai ucciso le orecchie. Che c***o. Oh ho ho, doppio botto, che figata. Oh, qua sotto c'è altro bordello. Oh ho. Mamma che bordello. Raga, sono le... è l'una meno venti. Ehi posti! Madonna, fa un casino pure quella Gt86, solo che poi quando subentra Marco con l'M3 non si capisce più niente. Andate, andate, andate! Quella M3 mi ha ucciso! Spettacolo! E io domani dovrò andare a lavoro e ci andrò, ma sarò uno zombie perché siamo ancora qua svegliati a catteggiare. Cioè veramente raga, fa male le orecchie. Io l'avevo già detto anche nell'altro video con Marco. Ti uccide le orecchie! Oh! Oh mio dio slalom tra i tombini qua, uno l'ho preso però c'è Marco che avrà praticamente solamente il mignolo del piede sul gas per non far rumore qua in mezzo no 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 oddio guardate qua davanti cosa abbiamo oh cazzo M3 di Marchettino CT86 oh mio dio qui prevedo ignoranza palate guardate l'S1 mappata da remo guardate qualche line up Golf GT S1 M3 assordito si sotto ti ammazza sotto ti uccide ma è un 320 eh è un M3 prima raga sono salito su questo S1 qua e va veramente forte non fa ancora bordello perché ha lo scarico originale ma va tanto siamo sui 300 cavalli più o meno su una macchinina così con Revo low boost per dire però anche l'86 non scherza come macello eh gli aspirati fanno un casino allucinante oh abbiamo avuto un po' di drifting lì e quindi è così che si buttano via un po' di litri di benzina Sotto il tunnel sono saltato si sotto il tunnel tammat con il cazzo ha un minatore eh si con la cazzo di roba in testa io ho tirato su per la prima volta in tutta l'acqua e il fine si quando ho una cellera è partito un box ma poi è metallico ti uccide proprio l'orecchio sarà raffreddato sa turbina va bene niente vi salutiamo dopo questa serata così ci vediamo al prossimo video ma è stato di tutti ciao 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 ma è mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede di venire in giocatore in giocatore